. Fedez e Ilunga-Ax, ci divertiamo a fare i producer, ma quanto è difficile far convivere i nostri ego. . Lo hanno già sperimentato con altri, ma stavolta Ilunga-Ax e Fedez hanno fatto di più. Nelle vesti di producer, come dei direttori artistici, non si sono limitati a metterci il becco ma hanno lavorato a testo e base. . Così è nato Turnit Up, il nuovo singolo di Sergio Silvestre. Ci divertiamo a fare i producer, presto annunceremo un grande progetto, vi spiazzeremo tutti, raccontano Atcom24. . Il progetto è stato lanciato da Tuborg Open in collaborazione con Major Lazer. A tre artisti in quattro paesi, Italia, India, Cina e Russia, è stato chiesto di creare un pezzo partendo da un beat ideato dal trio elettronico statunitense. . Come è stato lavorare a questo nuovo brano?. . Adoriamo lavorare con la lingua inglese e non capita spesso, siamo felici perché si sono combinati un po' di fattori. Dopo l'esperienza televisiva ad Amici dove ha vinto Sergio abbiamo pensato che fosse perfetto per il progetto. . . Con la sua voce potentissima. Abbiamo fatto un pezzo che si rifà al pop contemporaneo ma abbiamo voluto citare cose più old come Lionel Richie. . Cosa significa fare i producer? Intanto avere questa opportunità ci riempie di gioia. Produrre in Italia in genere significa altro, ma fare una sorta di direttore artistico è stato divertente, spiega Fedez . 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